Osate sognare. È un tema che si ammanta di speranza a quello scelto per l'edizione 2023-2024 del concorso Lions, un poster per la pace, giunto alla 36esima edizione. Quarto decennio di un service internazionale che il Lions Club Pesaro della Rovere propone agli studenti delle scuole primarie di secondo grado chiamati a dipingere la loro idea di pace. La commissione Lions ha valutato quest'anno 300 opere provenienti da 14 classi e degli istituti comprensivi pesaresi. È un tema molto importante, soprattutto come ho detto in questo momento che il mondo sembra che vada in una certa direzione, quindi coltivare, diffondere la cultura della pace è molto importante. Siamo soddisfatti, i premi elaborati erano ottimi, erano bei lavori. Ad essere premiati nella sala Righetti del Comune di Pesaro, Maria Giulia Lucchetta, Viola Bellinazza e Gabriele Rebonato per l'Istituto Gaudiano, Angelica Mazza, Greta Vitali, Matilde Rossini per l'Istituto Leopardi, Elice Ubaldini, Benedetta Gorga e Angelica De Luca per l'Istituto Manzoni. Elaborati d'arte che per i professori hanno mosso le coscienze degli alunni coinvolti su un tema tanto attuale e delicato. È stata un'ulteriore occasione di stimolo per i ragazzi, prima che per cimentarsi proprio graficamente nell'elaborato, proprio per riflettere sul tema. Abbiamo cercato di sensibilizzare i ragazzi proprio su questa tematica e ognuno di loro si è espresso in maniera diversa, in maniera personale, con tecniche diverse, con grande piacere e soddisfazione anche per noi professori. I ragazzi hanno cercato comunque di esprimere un po' questo mondo di pace, un mondo al quale tutti quanti noi comunque speriamo che si possa raggiungere al più presto.